Carus, casertana indomita in Coppa Italia, una casertana che ha dimostrato di essere grande con una squadra di Serie A, ora però si volta pagina. Sì, sicuramente è stata una bella esperienza questa della Coppa Italia, abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra, che abbiamo dei grossi margini di miglioramento e abbiamo preso anche consapevolezza nei nostri mezzi. Come hai detto tu, adesso si cambia pagina e inizia un torneo molto difficile, dovremmo essere concentrati in tutte le partite. C'è la Regina come primo ostacolo, squadra che avete già affrontato proprio in Team Cup, ma secondo te sarà una partita completamente diversa? Sì, secondo me sarà una partita molto difficile perché la Regina è un'ottima squadra, c'è giocatori di categoria che conoscono bene la Lega Pro, dunque andiamo in un campo difficile, sarà una partita tosta che però ci troverà pronti. Ma guarda, non voglio fare previsioni, io dico che siamo una buona squadra, ci sono grosse realtà in questo girone che ai nastri di partenza partono meglio di noi, però noi prima conquistiamo la salvezza è il primo obiettivo, poi quello che viene in avanti è tutto di guadagnato. Abbiamo visto già padrone del centrocampo, un Carrus che è il reduce dalla vittoria del campionato dello scorso anno e arriva qui con quali obiettivi? Il mio obiettivo è cercare di dare una mano alla casertana perché mi sto trovando bene in questo gruppo, la città mi piace e voglio dare il mio contributo, l'impegno e dare qualche consiglio a qualche ragazzo più giovane.